Ok, tornando al mio cruzvolto, a questo punto ho già inserito la richiesta, uno dei nostri operatori contatterà la persona che ha fatto la richiesta entro due giorni lavorativi, si metterà d'accordo con lui per vedere qual è? Sì, sono 485 mila i palermitani che già hanno apprezzato nel passato, in questi due anni, le nostre iniziative sanitarie, quali il medico online e l'esenzione online. Adesso un nuovo servizio in più, questo è un servizio innovativo, è la prima azienda in Italia che lo sta attivando, avere uno sportello ancora più all'icchito ma soprattutto dare la possibilità di utilizzare WhatsApp che come sappiamo è utilizzato da milioni di utenti. È un servizio, dicevo in più, rimane uno sportello come avete visto online potenziato con una finestra dedicata, quindi è un ulteriore servizio che si aggiunge a quelli già che esistevano ma anche a uno sportello ormai online che è diventato più, c'è l'esenzione online, il medico online, la diagnostica di laboratorio online, il laboratorio di analisi online, adesso anche la prenotazione delle visite, mi sembra una risposta ulteriore, concreta che stiamo dando agli utenti pagamenti.